Il film non rientra neanche in Corea nello standard sopportabile dei film perché il film è stato molto apprezzato, però nello stampo molto criticato per la sua violenza è stato un film forte anche per noi coreani però già dall'inizio quando scrivevo la sceneggiatura avevo già pensato che sarebbe stato un film troppo forte e avevo già pensato di mettere già i minori di 18 anni dentro di sé La maggior parte delle spettatrici, donne insomma, erano sempre girate con la testa abbassata insomma è una cosa normale, però guardando le espressioni e anche sentendo tutti questi applausi pensa che siano piaciuti molto a tante persone il film Ti spaventerai, però in realtà il protagonista maschile doveva essere assegnato a un attore di 60 anni circa doveva essere di un'età abbastanza... ecco però poi dopo, siccome per girare il film, perché comunque è un film molto d'azione difficile aveva bisogno di comunque abbassare gli anni del protagonista però poi dopo, durante questo procedimento, Won Bin, che è il protagonista maschile, l'attore ha letto questa sceneggiatura, ha visto, gli era piaciuto e ha voluto girarlo Se avessimo preso un attore così di una certa età, sarebbe stato completamente diverso il film sia comunque l'impressione che poteva dare, sarebbe stato tutto cambiato anche la sceneggiatura infatti sono state molte modifiche dopo che è stato scelto Won Bin come attore e riguardo all'attore, lui ha una faccia diciamo giovanile, di un ragazzo molto puro, ingenuo però nello stesso tempo ha delle facce, ha delle facce diciamo fredde, di una persona con sangue freddo infatti si è vista anche nel film e sicché direi che è un attore molto vario, che può avere varie facce molto bravo a interpretare queste diverse facce Non che non mi piaccia il tema, cioè la famiglia in sé è collegati però il fatto che comunque ho fatto dei film, tutti e due film dove ci sono queste famiglie famiglie non di sangue ecco e si è influenzato dal fatto che mi piace pensare, mi piace vedere nei film o insomma altre storie delle persone che non sono assolutamente legate in nessun modo però che poi si incontrano e condividono delle cose perché per un motivo si uniscono e diventano, hanno questo rapporto, iniziano questo rapporto, probabilmente da questa cosa sono influenzato La bambina aveva già letto comunque la sceneggiatura, anziché sapeva comunque a cosa andava contro però diciamo avevo avvertito comunque e avevo continuato a dirle guarda è una fiction insomma è tutto finto, non è niente irreale però siccome comunque doveva sapere bene la storia ha letto la sceneggiatura però mettendosi d'accordo con la sua madre, il film appunto l'ha vista a pezzettini dove non ci sono scene crudelle e dove appare lei Guardando appunto, avevo già detto, guardando nei film italiani oppure il padrino che dove c'è il pacino, insomma Robert De Niro guardando questi gesti, gesti tipici italiani avevo continuato a chiedermi ma che cose sono no? anche guardando le parti di calcio, che ci sono tutti questi gesti, era molto curioso di saperlo infatti Questo gesto è? Grazie 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 Grazie